Gli autisti ATM senza stipendio, il caso dell'azienda di trasporti pubblici inadempiente, finisce in Parlamento. I dettagli in questo contributo. Oltre 150 lavoratori dell'ATM che ad oggi non hanno percepito la ritribuzione del mese di aprile, nonostante la Regione Molise abbia provveduto ad erogare le spettanze relative ai servizi prestati nello stesso mese e per quelli aggiuntivi, trasferiti oltre 2 milioni di euro, ma l'azienda di trasporti su gomma continua ad essere inadempiente, una condizione che dovrebbe scotere la politica fino a portarla alla rescissione contrattuale a fronte di tali e perseveranti problematiche. Intanto il caso è approdato in Parlamento. Il senatore Ortis del gruppo Misto ha presentato un'interrogazione ai ministri delle infrastrutture Giovannini e del lavoro Orlando, mentre è attesa una risposta dall'assessore regionale Arramo Pallante. I dipendenti ATM, commenta Ortis, sono sottoposti da anni ad un calvario, ci sono stipendi non pagati che risalgono addirittura al 2019 e che rischiano di cadere in prescrizione, poi ci sono i contributi previdenziali non versati per oltre 500 mila euro. Urge una soluzione.